Il calcio vive su tecnica, tattica, ritmo, ma anche curiose fatalità. Tra Torino e Inter è stata una partita ad handicap, nella quale le due squadre hanno subito l'indebolimento proprio dei due reparti già meno mati alla vigilia. La squadra di Mondonico, priva di Benedetti e Bruno in difesa, ha perso dopo 27 minuti anche l'ultimo difensore disponibile, e cioè Annoni. Mentre la formazione di Trapattoni, priva di Matteus e Stringara a centrocampo, ha dovuto rinunciare dopo 39 minuti anche a Berti, l'elemento sicuramente più pericoloso. In regime di forzata austerità, il Torino ha fatto di necessità virtù, dando vita ad una tenacissima gara di attacco, confortata ad almeno 10 conclusioni degne di nota. Ottimi marchegiani, Baggio e Polichiano in difesa, Fusi e Martin Vazquez a centrocampo e Lentini in attacco. L'Inter si è battuta su ritmi meno sostenuti, adottando una tattica d'attesa proprio alla luce delle assenze già rilevate. Serena e Klinsmann non sono apparsi in giornata di grazia, ma d'altro canto i rifornimenti a loro favore sono apparsi sporadici, anche quando Trapattoni ha avanzato a centrocampo il libero Battistini. La cosa che ti ha dato più fastidio oggi? Ma non è che mi ha dato fastidio, cioè un gol così, il primo forse non dovremmo prendere un gol così, anche se forse le colpe non ne abbiamo nessuno. E quindi questo praticamente ha dato un po' la svolta, il resto che nell'occasione del campionato internazionale UEFA e il mercoledì che possono esserci anche dei momenti di appannamento, questo ormai lo conosco da anni. Martin Vazquez, Trapattoni ha detto che l'Inter ha un gol così, non doveva prenderlo. Cosa è successo su questo calcio di punizione? Normalmente quando si segna un gol così dipende un po' della posizione della barriera, no? Penso che la palla è possibile che sia, come si dice, il tremedio della barriera, no? Per questo penso che è un po' questa parola di Trapattoni, no? Sessazioni particolari? Una cartolina la mandiamo a Madrid? No, a satisfazione moltissimo, no? Perché penso che questo triunfo bisognava la squadra, no? Per un po' di tranquillità. Lentini, un gol d'autore? Sì, devo dire di aver fatto un bellissimo gol e sono molto contento. E come è venuto Battistini contro, sono stato fortunato a fargli il tunnel e poi a tu per tu con Zenga sono stato molto freddo. Poi a un certo punto nel primo tempo perdendo Policano che correva sulla fascia e che poi è andato a spostarsi su Klisman, avevate difficoltà. Poi è successo anche, si è fatto male a Berti, quindi insomma un po' tutto si è riequilibrato, no? Sì, infatti, quando noi abbiamo perso Annoni che si è stirato c'è stato un attimino di sbandamento perché non avevamo marcatori, quindi abbiamo dovuto inventare Policano marcatore. Poi è finito il primo tempo, ci siamo un po' riequilibrati nello spogliatoio e quindi nel secondo tempo tutto è stato più facile. E anche l'uscita di Berti ci ha favorito molto. Il portiere ha avuto un... ho entrato con la gamba involontariamente in pieno sul ginocchio per una forte contusione. Hai dei punti di danno? No, 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 solamente una gran botta che mi ha costretto purtroppo ad uscire nella partita. Niente nazionali quindi? Non so, adesso si prenderà una decisione, è molto difficile.